. Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 17 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. La parola agli estroversi. Tipi come voi, coraggiosi e sicuri di sé dicono sempre ciò che pensano e non ne temono le conseguenze. Con la luna in gemelli abbracciata a mercurio espansivo e chiacchierone, poi, il cuore oggi non ha segreti in barba a Saturno che tenta di blindarli entrambi con una quadratura. Va così che snobbandolo vi aprite con gli amici, raccontando della vostra passione segreta per X o Y. Nessuno riderà, avete gusti fini, l'impossibile vi tenta. Come uno scalatore che non si accontenta di una cima dell'Appennino e delle Prealpi, puntate subito alla nord del Cervino o della Marmolada, o tutto o niente. Per voi le parole di un famoso alpinista, che a proposito delle vostre ambizioni, ben sostenute dai fatti, dichiara, chi più in alto sale, più in alto vede. W Bonatti. Sorpresa improvvisa, un amore improvviso, un gesto nobile che vi commuoverà, una tenerezza, una notizia improvvisa e positiva. Novità in amore, anche messaggi e telefonate. I single potrebbero iniziare presto una nuova relazione molto positiva e sorprendente. Amate una persona presente solo nei vostri sogni. Guardate in faccia la realtà. Probabili scenate di gelosia da parte del vostro partner. In serata avrete momenti più distesi con qualche piccola gioia dovuta all'arrivo di buone notizie sul fronte del lavoro. Saturno e Mercurio oggi sembrano essere impazziti per voi, non avrete voglia di essere loquaci e tenderete a chiudervi in voi stessi. La serata si preannuncia migliore e con qualche momento anche brillante. Aspettate una notizia che non tarderà ad arrivare. Portate ancora un po' di pazienza. Oggi è uno di quei giorni in cui vi sentite estrani a molte questioni, avvertite quasi un senso di distacco da tutto e da tutti. Cercate di restare un po' da soli e dedicatevi a qualcosa che vi piace davvero. Iniziate oggi una fase di rinnovamento che vi potrebbe vedere impegnati per i prossimi mesi. Fate tutto con calma e cercate di alimentare la speranza e il rinnovamento. Purtroppo il ritorno di un amore è lontano e non state vivendo proprio un periodo positivo per l'amore. Non attenedete chi non torna. È l'inizio di qualcosa di nuovo, cercate di partire con il pian de giusto evitando gli errori del passato. Molte scelte da fare, soprattutto oggi che a causa di eventi improvvisi potrebbero complicarvi la giornata. Meglio fare poche scelte, decise, ma farle. Inutile restare con le mani in mano. Ottima la sfera sentimentale, che si presenta ricca di serenità e di occasioni di incontro. Brillanti novità in amore per le nate nella terza decade, regalatevi qualche cura di bellezza in più e risolvete eventuali piccoli problemi di salute. Nel lavoro potrete puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile. Invista qualche nuova opportunità di lavoro o di cambiamento. Distribuite la vostra vita tra i mille interessi che coltivate. Hanno su di voi una tale presa rigenerante e ringiovanente. La passione per le corse in bicicletta, le nuotate, il jogging, tutto vi anima e vi colora di entusiasmo. Il trio luna, sole, mercurio gemelli, vi regala una giornata magnifica, sotto molti punti di vista, ma, in particolare su quello dell'attività concreta e la mobilità, che, in voi, è soprattutto fisica. Mente veloce, il pensiero corre a tutte le incombenze da concludere prima del weekend. Aspettate a esaltarvi, però, vero che Marte e Venere fu così quanto voi vi illustrano fantasmagoriche opzioni per la serata e i giorni a venire, ma. Non avete ancora fatto i conti con Saturno che di botto vi carica sul groppone e tutta la stanchezza della settimana. Amore ed Eros. Un'amicizia tenta di trasformarsi in amore ma fatica, forse a paura di un passo falso e, frenata da tutte le fregature precedenti, preferisce procedere con i piedi di piombo. Tuttavia può accadere il contrario, una passione inizialmente troppo forte ma ormai quasi esaurita, si riconverte in una buona amicizia, insomma, se vi siete voluti bene e bene e volete ancora il l'uno per l'altra ci sarete sempre, anche se il lettone. Avrà altri ospiti. Quadro amoroso per voi che vi riporta con i piedi per terra. Nel sentimentale segno dei pesci, vostro buon vicino e alleato, sta adesso transitando Saturno specie se appartenete alla prima decade, che pone saggi limiti alla vostra volontà di espansione affettiva o di incoscienza vera e propria. Le vostre mire, se siete ancora in cerca dell'anima gemella, si rivolgono a persone che effettivamente possono ricambiare i vostri sentimenti. Di fronte a qualche illusione di troppo che un Plutone, rientrato in Capricorno, tecnicamente ostile se nati nella terza decade potrebbe seminare sul vostro cammino, avete il coraggio e la forza d'animo, per dire di no, preventivamente, evitandovi così futuri insuccessi. Lavoro e denaro. Ottima giornata per chi studia, sostiene un esame impegnativo con ottimi risultati e soprattutto per chi commercia, portandosi a casa un bel gruzzoletto. Resta da scoprirne la destinazione, magari darete una mano a un amico in difficoltà, ridotto alla canna del gas, oppure pagherete i vari debitucci disseminati tempo addietro o ancora, se i conti sono a posto, vi regalerete una serata da una babbi, considerandola un primo passo incoraggiante per un weekend da urlo. Il Sole, pianeta delle risorse in generale, è dalla vostra parte. Vi viene rimproverato di spendere tanto? Se è per la bellezza e la cultura, non ascoltate i rimproveri. Benessere. Sulla salute nulla da ridire, se qualche problema relativo ai bronchi c'è stato e vi ha mandati in fibrillazione, ora potete considerarlo definitivamente archiviato. Buona anche l'alimentazione, magari un po' discontinua, fatta più di sfizi e stuzzichini che di piatti completi, ma se li accompagnate con frutta e insalatone, sarete perdonati, l'appetito viene mangiando. Per lei, per far colpo non lasciate nulla di intentato, sfoggiate i colori ardenti della vostra anima e già che ci siete li vestite con indumenti di moda e di classe, che vi costano un occhio. Ma quando si ha in mente un obiettivo ben preciso non si risparmiano forze. Per lui, adorate i vostri figli e proprio per questo siete sempre attenti nei confronti delle loro frequentazioni, ragazzi viziati, superficiali e con troppo denaro in tasca, che sulle menti inesperte può diventare pernicioso. State in guardia. Colore delle emozioni, vermiglio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.